Ben trovati amici, ben trovati, chiude il mese di luglio come era preventivato con un caldo asfissiante e purtroppo la situazione non potrà migliorare. Vi posso dire che in Sicilia praticamente da dicembre dello scorso anno, 22-23 dicembre, che c'è stata una pioggia a un certo livello, a oggi non ha piovuto. Escluso, certo, qualche cosa c'è stata, anche a Ragusa forse un po' di più, ma nella Sicilia occidentale da otto mesi non piove, è naturale che la situazione sia drammatica per quanto riguarda la siccità e che bisogna fare qualcosa. Però vi dico un trucco, per combattere la siccità il momento giusto per farlo è quando non c'è la siccità, perché non si può combattere la siccità quando non c'è acqua. Noi dobbiamo combattere la siccità quando ce n'abbiamo e organizziamo tutto quello che serve, gli invasi, le dighe, le cose, le tubature, ma quando siamo senza un lisio d'acqua, come dobbiamo combattere la siccità? Comunque, di questo ne parleremo perché ora parleremo anche di dissalatori. Allora, prima di tutto, apriamo con la regione siciliana che ha fatto una mini manovra, la mini manovra è servita per mettere, per aiutare i comuni in difficoltà, perché poi, attenzione, Quanti sono? 380 i comuni in Sicilia? Almeno 330 sono in difficoltà economica, molti sono in dissesto, però tutti sanno fare gli spettacoli, perché gli spettacoli sono più importanti della vita dei cittadini, questa è una cattiveria. Essi spendono centinaia di migliaia di euro. Intanto vi posso dire, per esempio, che nella manovra sono stati aumentati i voucher sportivi, ma anche sono stati stanziati più di 400 mila euro per incrementare il fondo unico regionale per gli spettacoli. Attenzione, non sono quegli estivi, sono gli spettacoli, non c'è dubbio, ma in una situazione particolarmente delicata, forse la manovra doveva guardare altre cose. È vero che si parla di agricoltura, che con i limiti i fondi sono pochi, per quanto riguarda la siccità, ne parleremo anche lì, i fondi sono pochi. Però la questione resta sempre, che politica facciamo, chi governa questo paese e questo paese, questa regione, questa regione alla fine è ben governata, è una delle domande che ci poniamo. Ora ci arriva una cosa simpatica, la voglio leggere. Praticamente c'è stato uno scontro fra l'onorevole Moulet. Moulet, ve lo ricordate? Moulet è stato qua a Ragusa, è stato ospite mio, è un giornalista, ha fatto qualche tempo fa una manifestazione con la Repubblica, vi ricordate qui a Ragusa, a Ibla, con le sorelle di quattro, al piccolo teatro, è un personaggio che io considero molto positivo. Giorgio Moulet è giornalista, collega, è in gamba e sta crescendo in modo esponenziale. Cosa è successo? In un consiglio comunale a Palermo il consigliere Zacco insieme all'onorevole Tamayo hanno avuto parole non gratificanti nei confronti di Moulet, addirittura facendo riferimento al fatto che vengono elette persone che hanno fatto i camerieri di Berlusconi, insomma che fa riferimento alla figlia di Berlusconi, insomma sono state delle cose abbastanza offensive. Ora quando si parla di altri partiti capita che chi, quello di Forza Italia, offendono quelli del PD e al contrario perché sono scontri politici. Dentro lo stesso partito queste cose accadono raramente e magari accadono più volte però mai ci sono delle ripercussioni così gravi, non è successo niente, non li arrestano. Però dovete sapere che appunto Zacco e Tamayo sono stati sospesi perché Moulet ha fatto ricorso alla magistratura, sono stati sospesi per 20 giorni. Non è nulla, no? Dal primo al 20 di settembre. Se li sospendevano ora era ridicolo perché era l'estate e c'è anche tutto fermo. Invece sono stati sospesi dal primo di settembre al 20 di settembre per 20 giorni per comportamento offensivo. È un po' come i giocatori di calcio, no? Sono stati squalificati per tre settimane, quattro settimane, perché si sono comportati male. Non è successo nulla perché a Tamayo e a Zacco non gliene frega niente. Però dal punto di vista del partito questo ha un significato, vuol dire che il partito ha delle regole che prima non aveva. Da un po' di tempo si sono organizzati meglio, sta ripigliando la forma di partito. Prima erano praticamente un'eredità di Berlusconi senza né capo né coda, hanno perso molto in tutto questo periodo. Ora però si stanno rimettendo in carreggiata. E devo dire che Forza Italia per un periodo, lo sapete tutti, è stato il partito più potente che c'era in Italia, un merito certamente del leader Berlusconi che era un trascinatore anche dal punto di vista economico, perché i partiti hanno bisogno di soldi. Ricordate che Berlusconi non li lesinava e quindi ora si sta ricostruendo. Il partito, grazie ad alcuni organismi, anche locali, qua a Ragusa per esempio è stato rifatto, il partito c'è Giancarlo Cugnato, magari domani se riusciamo lo sentiamo anche su questo argomento, e Forza Italia cerca di rimettersi in carreggiata. Ci rimettiamo in carreggiata politicamente, abbiamo anche la sentenza del procedimento. Allora, andiamo a parlare dell'acqua, perché il problema lo abbiamo già evidenziato. Allora, si è parlato di quell'acqua nel sottosuolo, il presidente Schifani ha detto che vuole parlare con Lipparini, ieri ne abbiamo fatto cenno, Lipparini lo abbiamo intervistato noi, ha detto che forse sottoterra ci sono non so quanti miliardi di metri cubi ci sono, e io dico, ma che può essere questa la soluzione? Perché intanto dobbiamo essere sicuri che c'è, la prima cosa. La seconda cosa la dobbiamo tirare fuori. E che acqua è? E' acqua fossile, sta lì da un milione di anni. Magari c'è qualche organismo alieno, no? Che ci piglia un altro virus come questo, ma noi faremo le analisi. Vabbè, insomma, capite che io sarei un po' preoccupato a bervi l'acqua di due milioni di anni. Però io dico, guardate questa cartina, no? A fianco alla punta della Sicilia c'è mare a sinistra, mare a destra, mare sotto. E il mare non si finisce, anzi, a quanto pare diventa sempre più alto perché si sciogliono i ghiacciai. Ma allora perché non andiamo a fondo con la questione di salatori? Perché i salatori oggi, tra l'altro, con una tecnologia molto più avanzata, sono in grado di dare aiuto a centinaia di migliaia di euro con delle spese che sono normali. Perché mi dico questo? Perché siamo andati a cercare negli archivi e abbiamo trovato un servizio di dieci anni fa, quando è stato sospeso il funzionamento del dissalatore di Porto Empedocle. Ora vi spiegheranno come funziona. Oggi il presidente Schifani, in una sua dichiarazione, ha detto Porca miseria, la politica ha bloccato, ha messo, diciamo, da parte i dissalatori. Ne abbiamo tre, va bene, in Sicilia che non funzionano. Però i dissalatori possono tranquillamente dare aiuto a popolazioni da 100, 150, a secondo la grandezza, quello di Porto Empedocle, che era medio piccolo, costato 15, 16 milioni di euro, una bazzecola, in fin dei conti, dava acqua a 100.000 persone 24 ore al giorno. Quindi siccome non la usano 24 ore al giorno, una parte poteva andare... I costi erano alti, però oggi è come il petrolio. La volta il petrolio costava nulla, in America. Ora non è più così, il petrolio costa, e allora il costo per estrarre il petrolio, anche se è più alto, il gioco vale la candela. Il costo per estrarre l'acqua, per fare l'acqua depurata, forse il gioco vale la candela. Allora vi faccio vedere questo servizio che è di qualche... di dieci anni fa, e fa vedere come per una... perché sono stupidi, sono riusciti a bloccare una struttura del genere. Io farei una grande campagna e farei le zone principali con dissalatori per 200.000 persone. 5-6 di queste darebbero a un milione di persone l'acqua senza preoccuparci. Ma poi piove! E va bene, piove. L'acqua la conserviamo e la usiamo nelle campagne. E torniamo ad essere le campagne verdi che oggi non sono più. Questa è la verità. Allora, vediamo questo servizio.